salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video questo è la seconda parte del video che avevo fatto qualche video fa appunto che avevo fatto volare il dji air 2s dove avevo detto che avevo portato anche il dji fpv in questa location che i piani di resinelli come avevo detto nel video precedente e ragazzi oggi tocca a lui e adesso capirete guardando il cinematic video perché questa location è fantastica per un drone come il dji fpv non che per gli altri droni non sia una location stupenda perché avete visto con air 2s comunque dal punto di vista panoramico è fantastica la location ma oggi ragazzi vi trasporto in una situazione diversa con delle emozioni diverse appunto con il dji fpv quindi ragazzi vi invito a lasciarmi un grosso pollice su se il video dovesse piacervi e vi invito anche a iscrivervi se vi va al mio profilo instagram dove porto tantissime novità spoiler voli in fpv stampe 3d sempre se vi va iscrivetevi al mio canale 3gamo offerte ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube e adesso emozionatevi con dji fpv decolliamo ciao 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 ciao